Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da qua su. È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare. Ecco, quando leggete non considerate soltanto l'autore, considerate quello che voi pensate. Osate cambiare e cercate nuove strade. Non vi ho convinti. Venite a vedere voi stessi. Grazie. 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 Grazie.